Sto morendo! Buon day! Benvenuti in questo nuovo vlog Oggi a Milano c'è la neve! Hashtag a Milano c'è la neve Oggi ho deciso che farò una pazzia Ho deciso che farò il bagno, se si può chiamare bagno Completamente nudo e nella neve E sono super coperto, ho il giubbotto, il cappello, tutto E ho già freddo, sta già morrendo di freddo Quindi questa sarà Ho visto questo video fare a Jake Paul che l'ha fatto con la sua ragazza Niente, adesso praticamente sto cercando un posto appartato per fare questa cosa Perché mentre in video posso censurare le mie parti intime Nella realtà no, quindi vorrei evitare che qualcuno mi vedesse nudo E rischiassi una denuncia per atti osceni in luogo pubblico Fa freddissimo, mi sta girando la mano a tenere la fotocamera C'è un sacco di gente in giro, cioè ma con sto freddo statevene a casa Ecco Giuseppe statene a casa Hashtag e Giuseppe statene a casa Ah volevo ringraziarvi comunque per tutto il supporto che mi state dando in quest'ultimo periodo Visto che sto caricando tanti video In genere quando uno carica più video vengono visti di meno Invece no, quindi grazie mille Continuiamo così l'appuntamento d'ora in poi sarà il martedì e il giovedì Allora eccoci qua Il brutto è che sono da solo perché sono le 8 di mattina Stamattina mi sono svegliato e ho visto che c'era la neve fuori da casa mia E quindi ho detto bello vado a fare un video dove mi ci butto dentro Non ci sarà nessuno qui ad aiutarmi Chissà se uscirà mai questo video La gente in genere quando c'è la neve fa i pupazzi di neve Spalla la neve pulisce la macchina Io mi ci butto dentro Mi sono armato di guanti Sarò completamente nudo Terrò solo i guanti, carpe e cappellino E poi mi sono armato di accappatoio Spero di non star male ragazzi Do un'ultima controllata per vedere se non passa nessuno E poi succederà Mi butterò completamente nudo nella neve Hashtag Giuseppe nudo nella neve Ok non c'è nessuno Diamo inizio alle feste Mi sento un bambino Vedo la neve divento un bambino E ci faccio il bagno nudo Eccoci È arrivata la mia fine Oddio Oddio ragazzi Sto morendo Ma chi me l'ha fatto fare Dio Sicuramente qualcuno commenterà Mi ha scritto a Giuseppe Ma chi te lo fa fare Ma ragazzi io sono un vlogger Sono un vlogger completamente pazzo E se dovesse passare qualcuno Mi vedesse in accappatoio E chissà cosa penserebbe Quindi Ora mi rivesto E torno a casa Concludo qui a casa il video Perché sono tornato Mi sono scaldato Ho ripreso a muoverle mani Spero che questo video vi sia piaciuto Lasciate un bel mi piace Iscrivetevi se non siete iscritti al canale Condividetelo ovunque E commentate con hashtag Giuse e nudo nella neve So che sono un matto Mi raccomando Non fatelo a casa Non imitatemi Mi giuro che a un certo momento Stavo proprio male C'avevo freddissimo Queste cose lasciatele fare Ai vlogger matti come me Ok Un bacione Ci vediamo sabato Con un nuovo video Ciao Ciao